Tale e quale show, Alessia Marcuzzi sostituisce Loretta Goggi? Novità in giuria Alessia Marcuzzi è al posto di Loretta Goggi nella giuria del talent show? Le ultime indiscrezioni Poco tempo fa la Goggi ha annunciato ufficialmente di aver deciso di lasciare tale e quale show per passare più tempo possibile con il suo pronipote Da quel momento in poi Carlo Conti e il suo staff si sono messi alla ricerca del, del, sostituto, a. E dopo tante ricerche pare davvero che siamo giunti alla fumata bianca Difatti il portale televisivo tvblog.it è venuto a sapere che la scelta sembra sia ricaduta su Alessia Marcuzzi L'incarico di nuova giurata di tale e quale show 2024 sarebbe stato affidato ad Alessia Marcuzzi Si ricorda che proprio quest'ultima ha anche presentato in diretta sull'ammiraglia Rai David di Donatello al fianco di Carlo Conti Tale e quale show, ci sarà anche un quarto giurato fisso? Il rumor Ma le novità riguardanti la prossima edizione del talent show condotto da Carlo Conti non sarebbero finite con il presunto ingaggio di Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi Difatti sempre in base alle voci di corridoio raccolte dal sito tv di blog Pare ci sarà anche un quarto giurato fisso al fianco dei confermatissimi Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e della presunta new entry Alessia Marcuzzi Chi sarà? Al momento tvblog.it non ha fatto nomi, anche se ha comunque colto la palla al balzo per dare un prezioso indizio Difatti il quarto giudice dovrebbe essere un maschio Si sta pensando infatti di inserire nella giuria dello show di Rai 1 non 1, ma due nuovi ingressi Ad Alessia si dovrebbe aggiungere un maschietto Chi sarà mai? Ovviamente anche in questa circostanza di indiscrezioni ne circoleranno parecchie sul web e sulla carta stampata Quando partirà la prossima edizione del talent show e gli ultimi rumor sul cast? In attesa di sapere se davvero Alessia Marcuzzi sostituirà Loretta Goggi si segnala che la prima puntata della prossima edizione di tale e quale show dovrebbe essere prevista il prossimo 27 settembre, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto Ma chi ci sarà nel cast? Nessun nuovo concorrente è stato ufficializzato, anche se pare che in Lizza potrebbe esserci l'ex tronista di Uomini e Donne, Sofico Degoni Si fa inoltre presente che anche un altro ex protagonista dello storico dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha espresso il desiderio di partecipare alla prossima edizione del talent show di Carlo Conti Chi? Niente popo di meno che Giorgio Manetti Riusciranno a convincere Conti e gli autori?